E' un teramo voglioso di ottenere la prima vittoria stagionale, quello che ha concluso la settimana di allenamenti, una cattiveria agonistica, sottolineata anche dal tecnico Marco Pomante, in vista del derby contro l'Avezzano. Sì, sì, no, la cattiveria è quella giusta, l'atteggiamento è quello giusto, i ragazzi sono allenati veramente con l'entusiasmo veramente giusto di quella squadra che è consapevole del momento, è consapevole che domani è una partita difficile, quando una squadra che, al di là di quello che sta succedendo, ha un'ottima rosa, quindi non è una partita sottovalutare. Atmosfera complicata in casa marsicana, con il subentro in panchina del nuovo tecnico Pokesci, che inevitabilmente comporterà una reazione da parte dell'Avezzano. Sicuramente di fronte troveremo una squadra con un atteggiamento importante, con una cattiveria importante, perché, come detto tu, dopo un cambio l'allenatore sicuramente scatta quella scintilla in più, quella responsabile in più per i giocatori, poi di fronte troviamo sempre una squadra con giocatori in rosa veramente importanti, che hanno fatto categorie superiori, abituati a questo tipo di situazioni, sicuramente sarà una partita ostica, dove per me l'episodio può cambiare la partita, dobbiamo stare attenti a portare l'episodio dalla parte nostra, a stare concentrati e a curare molti particolari. Riguardo l'undici titolare, qualche piccolo dubbio per Pomante, legato più che altro a come saranno le condizioni del terreno di gioco del Savini. I dubbi ci sono, devo valutare anche la situazione del campo di Notaresco, per vedere se è un campo pesante o meno, perché giustamente poi devi mettere caratteristiche diverse, perché dipende pure dal tipo di partita che puoi fare. Però la cosa importante è che i ragazzi, come ho detto prima, si sono allenati alla grande, un atteggiamento importante, vogliono fare una grossa prestazione domani e speriamo che riusciamo a portare a casa tre punti.